Un saluto a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena pubblicato dalla Biblioteca Francescana che si intitola Persone, microstorie medievali di vita religiosa a cura di Maria Teresa Brolis e alla quale noi lasciamo subito la parola così che possa anche presentare gli ospiti che ci ha portato e che noi accogliamo con grande piacere. Quindi professoressa Brolis a lei la parola, prego. Grazie, grazie per questo graditissimo invito che mi mette di nuovo in contatto con la vostra bellissima associazione. Chiedo scusa a voi anche al pubblico che la mia voce oggi non è al massimo, ma vorrei subito precisare che questo libro che vi mostro anche nella bella copertina, lo dico perché spesso ho avuto anche esperienze di copertine non soddisfacenti, invece questa è proprio bella, figura che la curatela sia a nome anche della cara amica Silvia Carraro. Quindi l'ideazione del libro è stata mia e vi dirò il caso sbelli lo spunto, ma abbiamo lavorato insieme e devo dire che è stata un'occasione bellissima di collaborazione e di amicizia. Ringrazio anche Edizioni Biblioteca Francescana che ha colto questo volume nella sua collana fonti e ricerche e devo dire che è stata una collaborazione anche molto bella con questa casa editrice a cui sono affezionata. Ecco, essendo un libro corale, nel senso che dopo una premessa di cui vi parlerò, raccoglie ben 15 contributi e voi vi chiederete perché è così sottile, lo vedete, perché abbiamo chiesto saggi brevi, vivaci, narrativi, ma ben 15 autori che poi nominerò hanno accettato l'invito. Quindi presento subito però, tra questi 15, ringrazio gli amici che si collegano con noi da lontano Nebraska, Stati Uniti, Martina Saltamacchia e dall'urbe il caro Marco Bartoli. Lasciatemi presentarli molto brevemente perché dopo questo mio breve intervento, loro parleranno della micro storia inserita da parte loro come autori nel volume. Martina Saltamacchia è professore associato di storia medievale e direttore degli studi del Dipartimento Medievale e Rinascimentale dell'Università del Nebraska a Omaha. Oltre alla laurea alla Bocconi ha conseguito due dottorati in Italia, sempre Bocconi, e negli Stati Uniti. Sta lavorando attualmente a progetti di ricerca incentrati sui finanziamenti alle cattedrali, un bellissimo volume che apparirà in corso di elaborazione, ma che già Martina aveva fatto precedere. In particolare io sono affezionata a questo libro, Milano, Un popolo e il suo duomo, del 2007, dove affiora già la micro storia. Perché Martina si sofferma su un mercante, Marco Carelli, che lascia quasi interamente il suo patrimonio alla fabbrica del duomo. Marco Bartoli, che parlerà dopo di lei per cavalleria, perché di fatto invece il suo contributo è cronologicamente anteriore, Martina ci racconterà una micro storia del 400, Marco del XIII secolo. Marco Bartoli è professore associato di storia medievale verso l'Università Lunsa di Roma, nonché docente di storia del francescanesimo presso la Pontificia Università Antoniano. E Antoniano Mede è anche membro direttivo della Società Internazionale Studi Francescani. Tra i suoi numerosi studi su Chiara, Francesco, permettetemi però di dire che mi ha rubato il cuore e ci voleva, perché era un tema da riprendere assolutamente, un suo recente libro Santa Innocenza, i bambini nel Medioevo, edizione San Paolo 2021. Ecco, ringrazio appunto Martina e Marco che mi associano, mi accompagnano in questa presentazione. e cederò fra una decina di minuti la parola a loro. Certo, devo anche nominare poi gli altri autori, ma lo farò nel corso della mia breve presentazione. Allora, questo libro vi devo raccontare, perché lo voglio fare con semplicità. è nato da un episodio che mi ha accorso dopo un convegno. Avevo parlato, avevo fatto il mio intervento e un professore, devo dire anche un professore che stimo per tanti studi e di cui non farò mai nome anche sotto tortura, però mi avvicinò e mi disse una frase che mi lasciò veramente perplessa. Mi piace il tuo intervento, ma tu sei sicura che nel Medioevo avessero chiaro il concetto di persona. Io sono un po' cascata veramente dalle nuvole e ho un po' balbettato dicendo ma conoscevano il Vangelo. Però poi era ora di pranzo, siamo andati avanti e poi siccome ero veramente un po' meravigliata, però questo fatto mi ha indotto a riflettere e mi chiedevo ma da cosa può nascere questa difficoltà espressa nell'obiezione di questo valente studioso comunque? E ho ripensato, da un lato mi è venuto un immediato dubbio sul fatto che si possa confondere la percezione di sé, però questo sarebbe un errore grave che non imputo a questo studioso, a una visione dell'io nella consapevolezza che l'io può avere dopo gli studi di Freud, voglio dire. Certo, l'uomo medievale non pensava a se stesso con una coscienza psicoanalitica. D'altra parte, quando già nei miei studi degli anni Ottanta mi occupai di Pietro Invenerabile e in particolare cercai di capire l'affetto che legava Pietro a sua madre, Rangarda, e che è descritto in una bellissima narrazio di una lettera, già allora ero stata messa in guardia dal distinguere dagli aspetti apologetici, elogiativi di un racconto agiografico, le notazioni di affetto biografiche. E anche qua l'affetto di un uomo medievale viene espresso a volte in un modo più oggettivato, se volete a volte anche simbolico, ma si ha una percezione della coscienza dell'io. sapete benissimo che stanno uscendo dei saggi sulla storia delle emozioni e sono sulla linea di questa microstoria che noi abbiamo voluto lanciare, dico io e Silvia. dunque persona, il concetto di persona però l'ho affidato, scusate ma lo dico con una sicurezza quasi direi forse estrema, una sintesi sul concetto di persona l'abbiamo affidata a Franco Cardini, che forse l'unico, e questa è la mia sicurezza estrema, forse l'unico in Europa, che poteva offrire un cammeo, l'ho definito, di tre pagine, varrebbe la pena solo anche per questo comprasse il libro, perché ripercorre il concetto di persona sulla base di una conoscenza teologica che purtroppo è raro trovare ai giorni nostri. Certo, Cardini ha letto dell'Ubac anche esegesi medievale e è qua all'ultimo scaffale di questa libreria che anticipo a quella che ho di là nel mio studio, ma io non ho avuto ancora il coraggio di leggerlo tutto, perché è straordinario, ma è estremamente difficile. Cardini invece ha conosciuto anche il pensiero teologico di grandi pensatori e storici scrittori della metà del secolo scorso in Francia. Penso a Chenou, a Gilson, a Congar e allo stesso dell'Ubac. Ecco perché poteva, non solo grazie a loro, ma una ripresa della patristica, perché Cardini fa un escursus, ripeto, brillante e sintetico dalla questione appunto di come il concetto di persona si evolve nel dibattito anche trinitario su, dalla patristica antica, Agostino. Lui parte da Boezio, ma anche Agostino, per arrivare a quello straordinario XII secolo per il quale io nutro un amore che forse neanche il 200 è riuscito a strappare, però riesce a arrivare a definire come i medievali intendessero il concetto di persona e lo distinguessero da quello dell'individuo, attribuendo alla persona più un aspetto qualitativo, secondo la definizione turistica, di unità tra corpo e anima, mentre all'individuo quello più quantitativo. Ma, come vi dicevo, la leggerezza di questo libro non voleva appunto trasformarsi in un dibattito di tipo teologico. Quello che io desideravo e che Silvia Carraro ha condiviso era proprio l'obiettivo di inserirci nel filone della micro-history, che sapete benissimo che è stata inaugurata in Italia negli anni 70 da Carlo Ginzburg, ma relativamente all'età moderna, il famoso formaggio e i verni, ma sulla base di fonti inquisitoriali. Ecco il nostro tentativo, anche percependo un rinnovato interesse per la micro-history, soprattutto negli Stati Uniti, cito Lepore, Trivellato, Thomas Cohen, questa ripresa della micro-history, io e Silvia volevamo lanciarla in riferimento a un orizzonte cronologico più orientato sui secoli XII e XV, che sono, a mio avviso, ancora poco interessati da questo filone di ricerca. Quindi ci siamo chiesti, è possibile fare micro-storie di persone quasi sconosciute, tranne in alcuni casi, di cui appunto farò ora brevemente cenno, parlandovi degli autori e dei personaggi delle loro storie. Ma lasciatemi prima dire un'altra cosa, che in questa condensata premessa mia di Silvia volevo proprio dire. Io indubbiamente sono affascinata da una prospettiva anche storica, e l'ho messo anche in fondo al libro, in cui si ponga in evidenza la centralità della persona intesa non solo come il prodotto e il risultato del suo stato sociale, ma come protagonista della storia in quanto individuo libero che agisce in un contesto storico rispetto al quale può operare delle scelte. Ecco, ci tengo a ribadire questo aspetto. Quindi, grazie al contributo di molti autori, si è cercato di tracciare un affresco della vita medievale che tenga in considerazione molteplici punti di vista su persone appartenenti a diversi ambiti sociali, dal mercante sognatore al console politico convertito che si fa monaco, dal bestemmiatore pentito che vuole conciliarsi con la Madonna davanti a un notaio, al talent scout di Santi, mi perdonerà l'amico Francesco Mores che usi questo termine per il suo cardinale, ma è veramente un talent scout di Santi, dalla devota vedova che poi diventa prostituta, dalla ladra di reliquie alle serve eroiche che si aiutano e aiutano i loro padroni in momenti di epidemia. E questo, devo dirvi, che anche mi ha molto colpito visto che questo libro è stato elaborato durante il lockdown. Ora concludo leggendovi i titoli dei carissimi autori che hanno collaborato in una struttura che è tripartita, perché la prima parte si intitola La conversione del quotidiano con Anna Rapetti e ecco, i titoli sono sempre a premessa nel nome del protagonista della microstoria associato a un tema, a una vicenda. Ecco Anna Rapetti che parla di questo console piacentino che lascia il potere e si ritira il monastero. Anna Esposito parla del bestemmiatore Pettito di fronte alla Madonna, giusti nongiati di Margherita e le altre schiave liberate a Genova, la loro religiosità. Nella seconda parte Donne comuni nell'universo religioso Ann Lester devo ringraziare Martina che mi ha fatto conoscere questa splendida studiosa del John Hopkins che ha collaborato molto volentieri con noi donandoci una microstoria su Egidia di Sons che fonda una casa con finalità assistenziali con altre donne che si definiscono povere sorelle. Poi segue Silvia Carraro con Nicoletta da Venezia e un dossier a Papa intorno a questa vedova e poi prostituta con una veramente drammatica e vivace vita sentimentale segue il nostro Marco Bartoli che presenterà la sua storia poi il professor Mauro Ronzani che parla dell'entourage della beata Gerardesca di Pisa poi Silvia Duval che parlerà di madri e figlie nei monasteri dell'osservanza dominicana anche qua microstorie di madri e figlie Maria Clara Rossi che parlerà di donne solidarietà fra donne in tempo di epidemia Giuliana Albini che ci ha donato un episodio drammatico dell'assassinio di Caterina degli Uberti donna devota alla vergine e assassinata in un luogo dove poi sorgerà un santuario a lei dedicato a Crema e la terza e ultima parte con cui concludo Damian Smith che ha veramente recuperato una storia che potrebbe diventare un giallo un film il furto di una reliquia cristiana da parte di una donna che era stata rapita e portata alle Baleari ma che intercetta un mercante anche parente che torna in patria e gli date nascosto questa reliquia lei faceva parte dell'arem del re del Marocco poi Francesco Moris già citato il cardinale Giovanni di San Paolo Deus ex machina tra Giovanni Gualberto e Francesco d'Assisi Fernanda Sorelli la cara Fernanda che ci ha donato un gioiello nel suo affresco familiare Nicolò e Domenico Lion tra politica e religione nella Venezia del Trecento Martina Saltamacchia che ci parlerà e Marina Gazzini che ha descritto il sogno di un altro mercante Donato Ferrario che sarà poi appunto pure benefattore di opere assistenziali cedo molto volentieri la parola miei cari colleghi amici e vi saluto con molta simpatia lasciatemi sintetizzare con questo termine grazie buonasera a tutti e innanzitutto grazie per questo invito alla dottoressa Maria Teresa Brolis e all'Associazione Italia Medievale vi volevo raccontare brevemente la storia di Marco Carelli il mercante a cui è dedicata la mia microstoria all'interno di questo volume persone dunque la storia inizia nel 1391 dunque siamo alla fine del 300 da qualche decennio passata la la peste nera e nella nel centro di Milano si sta iniziando a costruire il nuovo duomo ovvero una versione notevolmente ampliata di quella che era la cattedrale di Santa Maria Maggiore che all'epoca era al centro della città e la la costruzione di questo di questo edificio procede grazie alle donazioni soprattutto del popolo cioè in maniera differente rispetto a quello che invece accade in altre opere in altre cattedrali e chiese contemporanee in Italia che erano spesso finanziate con tassazioni sulla popolazione oppure interventi da parte di principi regnanti e comuni stessi nel caso della cattedrale di Milano quello che avviene è che la maggioranza delle donazioni avvengono per via volontaria da parte di tutti per cui dei ricchi che lasciano terreni e possedimenti così come della gente comune e dei poveri che portano alla cattedrale quello che hanno per cui magari le monete ma per chi non ha disponibilità di denaro contante anche doni in natura un formaggio un paio d'uova una gallina un quaderno due candele e così via la cattedrale poi alla fine di ogni settimana la fabbrica ovvero l'ente caricato della gestione dell'amministrazione di questa costruzione rivende poi tutte queste donazioni e le monetizza in un'asta pubblica dunque fin dall'inizio la cattedrale di Milano dipende in maniera importante dalle donazioni volontarie della popolazione ed è per questa ragione che nel 1391 dunque quattro anni dall'inizio della della fondazione della prima pietra di questa nuova cattedrale avvenuta nel 1386 viene chiesto al papa Urbano VI di concedere una speciale giubileo per Milano in cui vengono rimunerati con un'indulgenza le persone che visitano sette chiese a Milano tra cui appunto Santa Maria Maggiore e lasciano una donazione per la cattedrale ora tra tutte le persone che rispondono entusiasticamente a questo invito alla carità c'è il mercante Marco Carelli il mercante Marco Carelli era ben noto nella scena milanese in quanto all'epoca aveva probabilmente tra i 60 e i 70 anni ed era capolista della della matricola della lana sottile ovvero era tra i principali mercanti e manifattori di lana Marco Carelli era al tempo ricchissimo possedeva 64 tra case e terreni aveva notevoli merci pietre preziose vesti per un totale stimato all'epoca per 35 mila ducati una somma assolutamente ragguardevole e di molto superiore a quanto la cattedrale riusciva a raccogliere in un anno intero dunque nel 1391 Marco Carelli risponde a questo invito alla carità stilando un testamento il 15 agosto come quasi una dedicazione alla sunta di cui in quel giorno era la festa e decide di lasciare nel suo testamento tutto il suo patrimonio alla cattedrale ovviamente potete immaginare lo stupore dei funzionari della fabbrica alla notizia di questo testamento se non che quello che succede di lì a poco è che finito il giubileo straordinario del 1391 finita la flusso straordinario di donazioni vengono a mancare entrate e la città si ritrova in un momento di carestia e di incremento di tassazioni per via delle costanti guerre che il visconti stava sferrando in quel periodo un po' dappertutto a quel punto il cantiere della fabbrica del Duomo entra in un momento di crisi mettono tutti i lavoratori a part time sospendono gli acquisti di materiali cominciano a sospendere anche le nuove assunzioni e cominciano a fare tutta una serie di riunioni di emergenza per capire come fronteggiare la crisi infatti in quel momento sarebbe stato assolutamente critico sospendere i lavori in quanto erano nel momento di scavi delle fondamente di preparazione e dunque avrebbero annullato quanto fatto fino a quel momento è lì che a uno degli ufficiali viene in mente la donazione del mercante Carelli ancora vivo vegeto e attivo nella mercatura e idea l'ardita proposta di andare a chiedere al mercante Carelli un anticipo sulla donazione dunque dali a poco un gruppetto di ufficiali si reca alla casa del mercante e fa presente la situazione di emergenza del cantiere e chiede di poter ricevere un anticipo della donazione il mercante è un mercante per cui sempre uso a ponderare bene le sue scelte e allora chiede un po' di tempo per pensarci e si presenterà di fronte al consiglio della fabbrica cinque mesi dopo dopo aversi preso essersi preso tutto il tempo per ponderare ma la sua risposta lascia tutti di stucco infatti quello che propone non è semplicemente un anticipo ma desidera lasciare tutto il suo patrimonio seduta stante semplicemente chiedendo per sé un ragionevole fitto in modo da poter avere di che sostenersi da lì fino alla morte la storia non si conclude qui perché Marco Carelli non non va a rinchiudersi in un convento come ci si potrebbe aspettare da un mercante pentito che decide di fare questa donazione per far sì che le porte del paradiso si possano schiudere di fronte a lui no e come lui conclude la vita secondo me ci dice molto anche di come concepiva sé e il suo lavoro Marco decide di andare in giro per i vari posti dove lui mercanteggiava per cui Milano Venezia soprattutto come due centri principali dei commerci a riscuotere tutti i crediti ancora in essere cioè quei crediti che per la fabbrica del Duomo sarebbe stato complesso ricevere in insomma totale perché i patti tra stati diversi ponevano limitazioni a quanto un ente come la fabbrica avrebbe potuto fare dunque Marco il mercante da ricchissimo divenuto povero spende tutti i suoi ultimi anni di vita ancora facendo il mercante ma questa volta pro bono a vantaggio della fabbrica e dunque si prodiga nel rintracciare tutti i crediti ancora in essere e in modo da lasciare il proprio patrimonio alla fabbrica alla sua morte nel modo più florido possibile ed è proprio a Venezia che infatti muore due anni dopo e da lì la fabbrica del Duomo deciderà di trasportare solennemente il suo corpo attraverso il il Ticino e poi il Po fino a Milano e da lì per fare una solenne celebrazione di questo mercante che si era spogliato di tutto per far sì che che la cattedrale potesse continuare i suoi lavori ed è proprio a lui che si deve l'ideazione di una cattedrale così grandiosa come il Duomo di Milano in marmo non in mattoni come inizialmente avevano pensato e con la grandiosità che tutti conosciamo molto bello grazie anche queste due presentazioni quella di Maria Teresa che presenta tutto quanto e questa adesso ultima di Martina io anche io saluto Italia Medievale e le ringrazio di questa opportunità sono molto onorato di parlare dopo queste due illustri studiose di storia medievale e lo dico anche perché quando io invece ho iniziato a studiare storia medievale io mi sono laureato nel lontano 1977 le storiche erano poche ancora in Italia e gli studi sulle storie delle donne ancora erano un po' ai primi passi in Italia almeno lo dico perché in fondo erano passati in fondo 30 anni da quando alle elezioni pubbliche in Italia si era lasciato il voto alle donne cioè voglio dirne che il cambiamento era stato ancora molto recente ecco questo spiega bene anche perché ancora la ricerca fosse poco attenta alla storia delle donne bene quando si è cominciato a fare storia delle donne per il medioevo ci si è trovati di fronte al muro del silenzio perché naturalmente donne non avendo spesso accesso alla cultura scritta avevano difficilmente lasciato delle tracce tranne alcune e queste alcune erano soprattutto le sante perché le sante in fondo avevano lasciato traccia più di le altre per una ragione molto semplice cioè che nel Vangelo c'è quella frase lo spirito soffia dove vuole ne senti la voce non sai né donde venga né dove vada così è di tutti quelli che sono nati dallo spirito in base a questa frase anche in un generale misoginismo nel medioevo gli autori tutti erano convinti che come dice Tommaso D'Aquino aliquando ufficio profezie mulieribus concessum est cioè tal volta può accadere che l'ufficio della profezia è concesso persino alle donne cioè che Dio parla anche attraverso le donne quindi quando le donne sono interpretate come sono capite come interpreti della voce di Dio è chiaro che le si sta ascoltare e quindi le donne sante sono state la voce di queste donne giunta fino a noi è così che è stato è nata tante cose eccetera quello che solo più recentemente è venuto fuori è che attorno alle donne sante ci sono molte altre donne la cui vicenda è stata molto meno studiata e che invece sono altrettanto importanti solo recentemente si studiano per esempio non so la biografa di Isabelle di Longchamp Agnès d'Arcourt che è la prima donna che scrive una vita in francese di un'altra donna è una cosa straordinaria una cosa molto importante eppure non era mai stata studiata per parlare dell'Italia Stefania diciamo la badessa successiva a colonna bene scrive la prima biografia di una santa in Italia allora io mi sono interessato di chi era da Sisi da tanto tempo ma in particolare non tanto una biografa ma certo c'è una circostanza molto particolare e io ho pensato che forse valesse la pena di mettersi a studiare un pochino una figura molto strana che appare nel processo di canonizzazione di Chiara da Sisi tra l'altro questo processo è conservato con le testimonianze di 15 donne e 5 uomini attraverso pure un'altra donna della fine del 400 che l'ha tradotto in volgare e poi l'ha fatto conoscere ma insomma queste testimonianze di donne ne sono molto interessanti e tra queste ce n'è una che è la terza che si chiama la Sora Filippa che apparentemente non diceva niente di particolare più delle altre invece studiando un po' il processo si capisce che tutte le altre fanno riferimento a lei che ci sono ben 17 riferimenti a quello che aveva detto Sora Filippa nelle testimonianze degli altri e lei vuol dire che le altre per parlare con i chierici che preparavano il processo evidentemente avevano parlato tra di loro si erano messe d'accordo un po' anche su che cosa dire che cosa raccontare e per cos'altro ma in fondo c'era stata questa Filippa doveva essere stata un po' il pivò la persona se vogliamo dire così la regista del processo e allora indagare su chi era questa Filippa è molto interessante intanto il processo ci rivela di chi è figlia di Leonardo di Cislerio e Leonardo di Cislerio non lo conosciamo per altre fonti come avviene per gli uomini e cioè che il signore di Sassorosso è la famiglia più importante di Assisi in sostanza è la famiglia che si era messa in mezzo tra Assisi e Perugia per cui era scoppiata la guerra tra Assisi e Perugia ai tempi quella guerra famosa a cui aveva partecipato anche Francesco d'Assisi bene questa figlia del signore più importante aristocratico era entrata a San Damiano nella comunità di Chiara allora già questo è una cosa importante non è mai diventata badessa non è mai diventata un ruolo ufficiale non ha mai avuto niente però tutte quante fanno riferimento a lei vive con Chiara ma almeno almeno 38 anni quindi conosce benissimo Chiara e nella sua testimonianza al processo dice delle cose straordinarie che nessun altro aveva detto e che sono tra l'altro delle cose che non verranno riportate nella leggenda ufficiale scritta invece da Tommaso D'Acelano che è un francescano teologo colto eccetera eccetera e dopo la morte di Chiara su indicazione su commissione del Papa allora io vorrei soltanto ricordarne una di queste cose che dice Filippa perché è una una testimonianza straordinaria di una visione che Chiara avrebbe avuto allora mi permetto di rileggerla con voi perché è veramente molto particolare riferiva anche Epsa Madonna Chiara che una volta in visione gli pareva che Epsa portava a Santo Francesco uno vaso di acqua calda con uno succhiatoio da succare le mani e saliva per una scala alta ma andava così leggeramente quasi come andasse per terra piana ed essendo pervenuta a Santo Francesco Epso Santo trasse dal suo seno una mammilla e disse ad essa Vergine Chiara viene riceve sugge ed avendo lei succato Epso Santo l'ammoniva che successe un'altra volta ed Epsa suggendo quello che dellì suggeva era tanto dolce e delettevole che per nessuno modo lo poteria esplicare ed avendo succato quella rotondità ovvero bocca della poppa donde esce lo latte rimase in tra i labri di Epsa Beata Chiara e pigliando Epsa con le mani quello che gli era rimaso nella bocca gli pareva che fosse oro così chiaro e lucido che ci si vedeva tutta come quasi in uno specchio ora questa visione è stata censurata dall'autore della leggenda di Santa Chiara perché l'idea di un Francesco con una mammella che ha latta chiara sembra essere evidentemente eccessiva ma questo ci rivela la grande libertà e la grande non solo di Chiara che ha raccontato la visione ma soprattutto di questa Filippa che l'ha ascoltata se l'è ricordata e poi l'ha raccontata a sua volta durante il processo perché ha pensato che questa visione fosse un chiarissimo segno di santità allora questo è molto interessante perché intanto proprio rivela che noi abbiamo tante volte l'idea di un medioevo misogeno medioevo moralista con tanti problemi tante volte siamo noi che siamo più moralisti di questi testi non so se mi spiego la santità per Filippa è una cosa che passa anche attraverso queste espressioni queste visioni e questa visione che ha fatto naturalmente ci sono stati tanti studi tanti saggi tra cui vorrei ricordare anche quello che ha scritto Chiara Frugoni la cara Chiara insomma merita di essere ricordato ma non è questo adesso che mi interessa interessa spiegare che Filippa è stata un personaggio fondamentale perché è lei che ha conservato la memoria di Chiara e ci sono buoni indizi per pensare che in fondo Filippa sapesse scrivere questo sarebbe una cosa molti studiosi sono dubitano che in Italia le donne sapessero scrivere già nel 1200 però è vero che nella regola del cardinale Ugollino si prevedeva che ci fosse una maestra che insegnasse le lettere alle novizie quindi è possibile che anche a San Damiano ci fosse almeno una che sapesse scrivere certo c'era un bel gruppo che sapeva ben leggere il latino Chiara stessa conosceva bene il latino perché facevano l'ufficio quindi pregavano il latino sette volte al giorno per tutta una vita quindi è chiaro che conoscevano bene il latino ma saper scrivere è una competenza in più ora è molto probabile invece che Filippa conoscesse la capacità scrittoria e quindi che lei sia stata l'autrice di tutta una di tutta una memoria di Chiara dunque l'importanza di Filippa non è soltanto nella sua vicenda personale ma che noi non avremmo accesso e conoscenza di Chiara se non attraverso quest'altra donna Filippa e questo mi sembra una cosa importante e mi sembra anche una cosa bella di poter dare il dovuto omaggio a questa donna che ha fatto la sua parte bene io direi che se questo è come dire un piccolo saggio dei tutti di tutte le narrazioni che sono contenute in questo volume miscellaneo bisogna correre a comprarlo perché ognuna di queste storie ha un fascino davvero incredibile da quella del Duomo a questa di Filippa e a quelle di cui ci ha parlato Maria Teresa Provis quindi io a questo punto ricordo il titolo perché è così uno se lo segna e va in libreria che è persone microstorie medievali di vita religiosa appena pubblicato dalla biblioteca francescana a cura di Maria Teresa Provis e Silvia Carraro e io ringrazio veramente di cuore tutti i nostri graditissimi ospiti che hanno partecipato a questa video presentazione e tutti i nostri video ascoltatori ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove troveranno tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi io vi ringrazio davvero tanto grazie grazie ancora Italia Medievale grazie Maria Teresa e grazie Martina grazie a voi a presto grazie grazie a voi